Benvenuti al tutorial per la presentazione delle istanze al bando unico della cultura della Regione Marche. Scopo del tutorial è fornire supporto per la corretta compilazione e trasmissione delle richieste di sostegno economico riferibili alle varie misure appartenenti al bando. A partire da quest'anno, le richieste di partecipazione potranno essere presentate solo in formato digitale, attraverso la piattaforma SmartBandy appositamente predisposta. In ottemperanza al codice dell'amministrazione digitale, per poter accedere alla piattaforma, è necessario dotarsi di una identità digitale, tra quelle previste, SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Attraverso il browser, collegarsi alla piattaforma sull'indirizzo internet smartbandi.regione.marche.it. Nella pagina iniziale sono presenti informazioni pubbliche e notizie utili. Effettuare l'ingresso in area riservata premendo il tasto Accedi all'area personale presente nella pagina in alto a destra. Scegliere e cliccare uno dei pulsanti relativi alle opzioni di accesso previste tra SPID, CE o CNS, in base alla propria identità digitale. Al termine del processo di autentificazione previsto dal provider della tecnologia utilizzata, si accederà alla pagina da cui è possibile effettuare le attività. Sono previste tre opzioni collegate ai rispettivi pulsanti. Creare una nuova istanza. Prendere visione delle domande predisposte, ma non ancora inviate attraverso la funzionalità Istanze in bozza. Verificare e seguire l'iter delle pratiche completate, trasmesse e protocollate cliccando sul pulsante Istanze inviate. Per predisporre una nuova istanza, pigiare il pulsante Nuova istanza. La pagina che si aprirà conterrà i bandi attivi a cui è possibile inoltrare domanda di partecipazione. Sul riquadro di ogni bando, oltre al titolo, sono riportate delle note informative di supporto alla compilazione. Dopo aver cliccato sul bando di interesse, si aprirà la pagina del relativo modulo da compilare. Questo è suddiviso in sezioni. Affinché l'istanza sia corretta, è necessario che venga compilato integralmente e corredato dagli allegati previsti. In ottemperanza alle linee guida ministeriali, la sessione è provvista di timer di scollegamento. Al fine di evitare la perdita del lavoro effettuato, si consiglia di cliccare frequentemente il tasto Salva bozza, presente all'inizio e alla fine della pagina. È possibile effettuare la compilazione in momenti successivi. Per sfruttare tale opzione, è necessario schiacciare il pulsante Salva bozza prima di interrompere l'attività. Al successivo ingresso in piattaforma, per ricominciare da dove si era interrotto, premere il pulsante Istanze in bozza, all'ingresso dell'area personale. Riaprire il modulo e riprendere la compilazione. Il modulo presenta campi obbligatori individuabili con la dicitura o BBL in azzurro. L'avanzamento delle sezioni da completare si effettua attraverso il pulsante Avanti, presente in fondo alla pagina. Sfogliate tutte le sezioni, comparirà il tasto Genera. In caso di pressione del tasto, senza che tutti i campi obbligatori siano stati compilati, comparirà un riepilogo riportante gli errori e le relative indicazioni diventeranno di colore rosso. La prima sezione, comune a tutti i bandi, è relativa ai dati anagrafici dei soggetti coinvolti. Qualora il compilatore fosse persona delegata da legale rappresentante o da legale rappresentante dei soggetti di rete, è obbligatorio allegare apposita delega. Compilati i dati relativi all'impresa ente e a quella del legale rappresentante, attraverso il pulsante Scarica delega si otterrà il modulo precompilato con possibilità di stamparlo o salvarlo all'interno del computer. La delega deve essere firmata da chi ne ha titolo, in modalità digitale o con firma autografa. Successivamente andrà ricaricata nell'apposita area, avendo cura di inserire un documento d'identità in corso di validità del firmatario, nel caso di firma autografa. Al termine della compilazione del modulo, dopo aver caricato gli allegati previsti e avanzato in tutte le sezioni tramite il tasto Avanti, comparirà il tasto Genera, alla cui pressione, se la procedura è stata svolta correttamente, verrà presentato in bozza per opportuna verifica il modulo compilato in ogni sua parte. Al termine del controllo, apportate le eventuali correzioni. Affinché la domanda sia valida e venga trasmessa, bisognerà cliccare sul pulsante Vista e trasmetti documento, a cui seguirà conferma con l'indicazione dell'identificativo di protocollo attribuito. È onere delle richiedente verificare che il sistema abbia generato la segnatura di protocollo e che la domanda generata non sia rimasta nella sezione di menu denominata Istanze in bozza. La domanda correttamente trasmessa sarà presente nella sezione Istanze inviate della piattaforma, da cui sarà anche possibile prendere visione della segnatura di protocollo e seguire in tempo reale l'iter premendo il tasto Menu e successivamente l'icona ingranaggio.